Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Io sono qui per recensire una nuova Ever After High. Era un po' di tempo che non recensivo un nuovo personaggio. Per chi non lo sapesse, questa è Duchess Swan, daughter of the Swan Queen, cioè la figlia della regina dei Cigni. E eccovi qui la mia solita introduzione, in 3, 2, 1, ecco. Duchess Swan è una reale, per l'esattezza la figlia di Odette del Lago dei Cigni. Nonostante il suo carattere sia tutto tranne che gentile e altruista, è una persona davvero determinata. Soprattutto quando il suo laghetto diventerà inquinato, a causa del suo comportamento però, ovviamente, saranno in pochi a volerla aiutare nel momento del bisogno. E quelli che ci cascheranno non avranno di certo un gran riconoscimento da parte sua. Anche a Duchess è toccata la sorte di questo nuovo box Ever After High, che da adesso in poi toccherà tutte le Ever After High. Anche quelle vecchie verranno riprodotte e rimesse in questo box, quindi purtroppo se non vi piace dovrete un pochino abituarvici. La copertina di questo libro, anche se questa scatola è composta da più libri, è Duchess Swan, ovviamente, e come potete vedere il suo colore è un blu-violastro molto particolare. E' una Ever After Royal, come ho già detto, quindi è una reale. Il suo segnalibro è sempre di questo colore blu-violetto che mi piace moltissimo. E ha come ciarmino due scarpette da ballo, ovviamente. Sullo sfondo acquarellato possiamo vedere un laghetto e un cigno che si sta facendo un giretto sopra di esso, ma questo cigno ha un riflesso che è nero, che sta a simboleggiare il cigno bianco e il cigno nero per l'appunto della storia del lago dei cigni. Wow! Qui c'è un altro particolare sullo sfondo, ma Mattel ha deciso di metterci sopra la spazzolina Ever After High. Ho guardato ed hanno addirittura proprio piegato quella parte di cartonato, quindi questo dettaglio della scatola non si capisce. Peccato, perché vabbè, sono delle semplici scarpette da ballo che avremmo potuto tutti immaginare che ci fossero in questa scatola. Però che cosa fate a fare un particolare se poi le coprite così brutalmente? Domandatevelo, Mattel. Sì ragazzi, qui in basso a destra c'è il solito logo Ever After High. Questa bambola è consigliata dai sei anni in su. Qui come al solito possiamo vedere un pezzettino dell'artwork di Duchess, che è in questa bella cornice dorata. Lo stemma dei reali. E qui di lato, cosa che lo rende un pochino più difficile da leggere, il nome Duchess Swan, Daughter of the Swan Queen. È il simbolo di Duchess, che è ovviamente un cigno. Sul lato della scatola non c'è più niente di così interessante, a parte di nuovo la scritta Duchess Swan, Daughter of the Swan Queen, il nome Ever After High e questo piccolissimo segnalibro a pendaglietto che si ferma qui in mezzo alle pagine del libro. Finte pagine, ovviamente. Questo invece è il retro della scatola, che è identico a quelle vecchie e che conosciamo tanto bene. Ovviamente c'è l'artwork di Duchess, che è sempre molto molto bella. Ha le calze a rete, come un bel po' di Ever After High, e questi tacconi. Non chiedetemi come faccia a ballare su questi tacchi. Io mi sarei già rotta la caviglia 140 volte, ma andiamo avanti. Come al solito mi piace moltissimo come i grafici hanno fatto l'iniziale del nome del personaggio in questione, quindi qui Duchess Swan. Credo che come potete vedere su questa D c'è un fiocco con del nastro, che sta proprio a richiamare le scarpette da balleo, e ovviamente un cigno. Oggi non so parlare al posto che da ballo, ho detto da blallo, ma spero che abbiate capito ugualmente. E qui in basso ci sono le ultime Ever After High a essere uscite, non si parla più di migliori amici, reali e ribelli, la cosa completamente andata in bacca, come si osa dire, andata in quel paese. Quindi possiamo vedere Kitty, Lizzie e Ginger, che ho già e che recensirò presto, quindi state pronti. Ho letto un pochino la sua storia qui sul retro, che sia un pochino ridotta rispetto a quella delle scorse Ever After High, dove c'erano molte più cose scritte. In ogni modo si nota abbastanza il suo egoismo, soprattutto che è una cotta assurda per Daring Charming, che però dovrebbe sposarsi, secondo le regole della storia, con Apple White. Quindi si può dire che lei, certo, è una reale, però in questo caso è una ribelle, perché spera comunque di mettersi con qualcuno che nella sua storia purtroppo non compare. Oltretutto si sente messa molto da parte, perché la sua storia non è famosa come quella delle altre, quindi lei vorrebbe avere un Apple Ever After diverso, quindi una fine felice e contenti diversa, ma purtroppo non la può avere come vuole e quindi deve rovinare anche quella degli altri. Questa principalmente è la personalità di Touches One. Non lo ripeterò, lo scriverò anche nella descrizione, però nel caso me lo chiediate sotto nei commenti non lo ripeterò, perché l'ho già detto, quindi un secondo di attenzione ragazzi, focus on me! Ho trovato Touches One negli Stati Uniti da Target per 21 dollari e 25 centesimi, che sono circa 17 euro al momento, credo. Non so quando uscirà in Italia, speriamo tutti presto. Bene, passiamo all'unboxing! Eccoci qui con Touches e tutto quello che arriva assieme a lei, uno stand Ever After High argentato in questo caso, mi fa piacere però che non sia nero ma argentato, anche la classica spazzolina Ever After High arriva ovviamente in argentato. Scusate per le dita in quel paese, ma prima stavo giocando col mio cane. Questa è la borsetta di Touches One, che come potete vedere è molto strana, non avrei mai pensato che fosse da lei, anche se è una ballerina, molto frufru, rosa con tutti questi strani drappeggi, questo manico perlato che sembra formato da bolle e qui c'è un piccolo cigno sull'apertura e dall'altra parte è così. È una borsa che io non userei mai, è orribile, ma in ogni modo se piace a Touches siamo tutti contenti. Quindi per lei ovviamente non è apribile, è semplicemente un pezzo di classica. Ovviamente c'è anche il suo diario, sì, che nel mio caso è tutto completamente in inglese perché l'ho acquistata negli sti minuti. Come prima cosa vorrei dirvi che lei è una delle bambole più alte a CMS Risewood di tutta la linea. Facciamo una piccola comparazione tra le altezze Ever After High. Questa è l'Easy Heart, una delle bambole più basse in assoluto. Questa è Seedal Wood, una bambola di altezza normale. E questa è Dachis, che come potete vedere le supera tutte ampiamente. Grazie ragazze per avermi aiutato. Eccoci qua con il viso di Dachis. Devo ammettere di essere abbastanza soddisfatta di come è stato realizzato, anche perché ha un'espressione e uno sculpt leggermente diverso rispetto a quella delle Ever After High che abbiamo visto fino adesso. All'inizio erano tutte abbastanza simili tra di loro. Non so se vi ricordate che dicevo Raven e Apple hanno quasi la stessa faccia, cambia semplicemente il make-up. Invece adesso Mattel sta cercando di differenziare molti visi l'uno dall'altro e questa è una cosa che apprezzo moltissimo. È molto chiara di pelle, ma non tanto quanto Apple White. Quindi Apple White è insuperabile. Ha questi occhi castani e questo trucco molto molto definito, rosa da entrambe le parti. Ha le sopracciglia super definite e sono leggermente inarcate, come per darle un'espressione non proprio arrabbiata ma comunque un pochino crucciata. ha pochissimo blush rosa, quasi non si nota. E ha le labbra questo rossetto che va dal fucsia scuro al rosa più chiaro, con ovviamente dei piccolissimi riflessi che come al solito aggiungono come puntini bianchi quasi su tutte le Ever After High. In testa è questo enorme copricapo rosa che non so come faccia a tenere tutto il giorno, ma è crollerebbe dalla testa dopo 30 secondi. È composto da piume. I capelli invece sono neri, con questa ciocca che sembra quasi bianca ma è un viola chiarissimo che scende assieme a un po' di capelli neri. Poi ha questa coda che le fa stare i capelli in questa sottospecie di crocchia che sono abbastanza pieni di prodotto per farla stare in questa posizione. Purtroppo non ne ha così nel cartone, ma riprodurli in serie con una pettinatura così complicata probabilmente era troppo difficile e costoso per Mattel. Quindi se volete farle avere i capelli che ha nel cartone dovrete customizzarla. Io non oso ovviamente mettere le mani ai capelli perché se no ragazzi non oso pensarci. Qui ha una parte di capelli bianca che però ha un riflesso bluastro che penso che non si possa notare in camera. Come accessorio a questi orecchini argentati con una bella piuma ovviamente. Questa collana nera ovviamente è removibile che ha alcuni dettagli, come potete vedere infatti ci dovrebbe essere una gemma incastonata che però non sono stati dipinti quindi è un pochino difficile decifrarli. Sulla mano sinistra ha questo semplicissimo braccialetto con su un ciondolino con sopra un cigno come potete vedere per il resto è veramente semplice. Ha il solito anello a doppio dito, in questo caso argentato, con sopra un cigno. Informazione di servizio per tutti i fan Ever After I. Mattel ha deciso dopo Duchess One di togliere tutti gli accessori che a me personalmente piacevano moltissimo come gli orecchini, le collane, gli anelli e i braccialetti da tutte le future Ever After I. Già, quindi ad esempio Kitty non avrà né gli anelli né i suoi mani cotti di pelo né i suoi orecchini e lo stesso per Ginger. Sembra che infatti Mattel abbia deciso di dare un grandissimo taglio di budget alle Ever After I che sembra non stia inondando come sperato perché sennò non capisco come mai fare una cosa simile. Anche le vecchie bambole che verranno riprodotte, quindi tutte le vecchie Basic, Apple White, Madeleine Hatter, eccetera, verranno prodotte senza i loro accessori e quei pochi accessori che torneranno non saranno più dipinti bene come lo erano una volta. Quindi se volevate le vecchie e tutte quelle che ho recensito Ever After I finora è il momento di comprarle ora o mai più perché la nuova versione sarà, diciamo, una versione più cheap e il prezzo rimarrà invariato. Erano delle bambole che meritavano moltissimo e non si meritavano di diventare delle bambole con così pochi particolari. Addirittura Apple White non ha più nemmeno le calze. Passiamo al vestito. Tachis ha questo vestito sui toni del viola chiaro, con questi poi sbuffetti, come li chiamo io, che sono rosa, e ha questo specie di corpetto nero, ovviamente removibile come tutto il resto del vestito. L'unica cosa che mi chiede è come faccia una persona materialmente a danzare con un corpetto simile. Ma ovviamente andiamo avanti. La sua gonna è molto molto carina e ha più strati. Il vestito non ha alcun orlo in basso, ma mi piacciono moltissimo queste parti di tulle perché mi ricordano le mie principesse Disney di quando ero piccola, che erano sempre prodotte da Mattel. Questa parte di tulle è rosa, con dei brillantini. Quest'altra invece è tutta brillantinata, ma ha stampate sopra delle stelline nere e tantissime, come potete vedere, piumette bianche. La parte sotto invece è semplicemente bianca con dei rombi stampati neri. Come potete vedere però ha degli spot bianchi. Non so se è volutamente così o sono degli errori di stampa. Sinceramente non so se voglio saperlo. Mi sarebbe piaciuto però che questa parte avesse avuto un orlo, che invece stranamente questa volta non è stato fatto. Ha queste calze in rete che ormai hanno tutte le Ever After Eye, visto che Mattel ha deciso di fare così, o senza calze o con queste. E ha queste scarpe nere con cui danza. Infatti richiamano un pochino alle scarpette da ballo con questo intreccio di lacci. E poi c'è anche un mega fiocco. Come ho già detto non so come una persona possa danzare con queste scarpe, perché è completamente impossibile, se non vuoi spaccarti la caviglia ovviamente. Però se non pensiamo al lato della danza sono molto molto carine. Hanno anche un fiocchetto scolpito sul davanti, qui. E soprattutto lei non ha le dita di fuori. Quindi se non pensiamo alla danza sono delle scarpe fighissime. Bene, ho messo anche in pota Duchess One come una vera ballerina, o qualcosa di simile. Per me rimane comunque una bambola di altissima qualità. E questa tra l'altro, come ho già detto, sarà l'ultima Ever After Eye ad avere tutti questi accessori. Quindi va assolutamente comprata se siete dei fan delle Ever After Eye, soprattutto se siete dei collezionisti delle Ever After Eye. Questa bambola ve la consiglio decisamente. Come vi ho detto, in America l'ho pagata veramente poco, ma in America i giochi hanno sempre un prezzo abbastanza inferiore rispetto a qui all'Italia. Quindi non so quando arriverà qui. E soprattutto il prezzo che potrà avere, che è la cosa che mi preoccupa maggiormente. Spero che la scatola di giocattoli mi risponda. In ogni modo è veramente una bella bambola. E sono molto, molto dispiaciuta, vi giuro. Col cuore in mano vi dico che mi spiace molto che Mattel stia tagliando il budget a queste bambole così belle. Me la vedo già ballare poi il lago dei cigni. Va bene, ragazzi, la smetto. Adesso ho deciso di aggiungere delle foto più dettagliate alla fine della recensione per farvi vedere meglio la bambola. Così vi farete un'idea migliore se i dettagli vi piacciono meno. Vi lascio un abbraccio grande e a domani con una nuova recensione che penso che vi piacerà molto. Scusate, oggi sono un po' addormentata ma purtroppo è il tempo. Che fa sempre schifo, ovviamente. Scusate, oggi è stato un po' addormentata ma purtroppo è un po' addormentata ma purtroppo è il tempo. Scusate, oggi è stato un po' addormentata ma purtroppo è il tempo.